Rebula o poca 2017 Marian Simcic Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi vi porto alla scoperta di un grandissimo produttore. Ci troviamo a cavallo del Coglio Friulano e della Breda Slovena, il Coglio Sloveno, dove Marian Simcic, quinta generazione di vignaioli, rappresenta oggi uno dei più importanti produttori del territorio e oggi degustiamo insieme e vi parlo della sua Rebula o poca 2017, la così chiamata Ribolla Gialla dalla parte del Coglio Friulano. Oggi parliamo appunto di un produttore che ha fatto del vino la sua vita, con grandissimi vini, incentrati molto sul territorio, tanto da dedicare la sua linea di punta al terreno, a quello che troviamo nel sottosuolo dove affondano le radici delle sue viti, l'opoca, l'argilla di sedimenti eolici, questa argilla che offre profumi veramente caratteristici che troviamo tutti all'interno del calice. La linea opoca viene prodotta solamente nelle migliori annate e rappresenta veramente l'eccellenza dei vini di Marian Simcic. Oggi parliamo della sua Rebula che andiamo subito a degustare, una Ribolla che durante la vinificazione mantiene una macerazione delle uve a contatto con il mosto in fermentazione appunto per 16 giorni, per poi passare in affinamento sia in acciaio che in botti di rovere. Vediamo subito questo colore giallo-dorato intenso che rappresenta proprio l'essenza dei vini di Marian, con queste macerazioni importanti, ma soprattutto questi affinamenti per andare a caratterizzare questi vini con grande eleganza, struttura e soprattutto spiccata territorialità. Infatti già dal naso ritroviamo queste note calcare, queste note minerali di argilla, viva, oltre che note di frutta, frutta tropicale surmatura. Per poi ritrovare questa complessità e questa struttura al palato con questa spiccata acidità, questa complessità aromatica che diventa persistente e soprattutto questa piacevolezza di beva. Non un vino facile, non un vino sicuramente adatto a tutte le occasioni, ma ad accompagnare a grandi piatti, come per esempio una grigliata di pesce affumicato. Veramente un grandissimo vino che rappresenta pieno il territorio e la filosofia di Marian Simcic. Per cui io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino. Ripartiamo dal vino.